Nikola Tesla, l'inventore visionario. Nikola Tesla è stato un inventore, fisico e ingegnere elettrico, nato da famiglia serba nell'attuale territorio della Croazia durante il periodo dell'impero austriaco, naturalizzato statunitense nel 1891. È considerato uno dei più grandi inventori di tutti i tempi, e le sue idee e intuizioni hanno contribuito a plasmare il mondo moderno. Tesla nacque il 10 luglio 1856 a Smiljan, un villaggio nell'impero austriaco, l'attuale Croazia. Sin da piccolo, Tesla mostrò un grande interesse per la scienza e la tecnologia. A 12 anni, vide un fulmine colpire un albero e fu folgorato dalla visione. Da quel momento, Tesla fu ossessionato dalla possibilità di sfruttare l'energia elettrica per il bene dell'umanità. Nel 1875, Tesla si iscrisse all'Università di Graz, in Austria, per studiare ingegneria meccanica. Tuttavia, dovette abbandonare gli studi a causa di problemi familiari. Nel 1879, si trasferì a Budapest, dove trovò lavoro come ingegnere elettrico. Nel 1884, Tesla si trasferì a New York, dove iniziò a lavorare per la Thomas Edison Company. Tuttavia, Tesla e Edison entrarono presto in conflitto a causa delle loro diverse visioni su come distribuire l'energia elettrica. Tesla sosteneva l'uso della corrente alternata, acquistare, mentre Edison era un sostenitore della corrente continua, DC. Nel 1886, Tesla lasciò la Thomas Edison Company e fondò la sua propria società, la Tesla Electric Company. Tesla brevettò un gran numero di invenzioni, tra cui il motore a induzione acquistare, il trasformatore e il sistema di distribuzione dell'energia elettrica acquistare. Nel 1893, la Fiera Mondiale di Chicago fu illuminata con la tecnologia acquistare di Tesla. Questo evento segnò la vittoria della corrente alternata su quella continua, e Tesla divenne una celebrità internazionale. Negli anni successivi, Tesla continuò a lavorare su una serie di progetti innovativi, tra cui la trasmissione wireless di energia elettrica, la radio e il radar. Tuttavia, molti dei suoi progetti non furono mai realizzati a causa di mancanza di fondi o di interessi commerciali. Tesla morì il 7 gennaio 1943, all'età di 86 anni. Fu trovato morto nella sua stanza d'albergo a New York, con un foglio di carta in mano su cui era scritto, tutto quello che ho fatto è stato un sogno. Le invenzioni di Nikola Tesla. Le invenzioni di Nikola Tesla hanno avuto un impatto profondo sulla società moderna. La corrente alternata, ad esempio, è il sistema di distribuzione dell'energia elettrica più utilizzato al mondo. I motori a induzione acquistare di Tesla sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, tra cui i motori elettrici delle automobili. Tesla ha anche contribuito allo sviluppo della radio, del radar e della tecnologia di trasmissione wireless. Le sue idee sono state fondamentali per la nascita di nuove industrie e tecnologie, e hanno contribuito a rendere il mondo un posto più moderno e connesso. Il genio visionario di Nikola Tesla. Nikola Tesla era un genio visionario, e le sue idee hanno anticipato i tempi di decenni. Era un uomo di grande creatività e immaginazione, e aveva la capacità di vedere il potenziale delle nuove tecnologie. Tesla era anche un uomo eccentrico e solitario. Era ossessionato dal lavoro, e passava spesso giorni e notti a sperimentare e a sviluppare nuove idee. Era anche un grande appassionato di filosofia e religione, e cercava di trovare un significato più profondo nella sua vita e nel suo lavoro. Nikola Tesla è una figura controversa, e la sua vita e le sue invenzioni sono state oggetto di numerose speculazioni. Tuttavia, non c'è dubbio che Tesla sia stato uno dei più grandi inventori di tutti i tempi. Le sue idee hanno contribuito a plasmare il mondo moderno, e il suo lavoro continuerà a ispirare e affascinare. Grazie. Grazie.